Buonasera Aga Cadabra, avrai di certo sentito che Berlusconi è deciso a ritornare, è in piena pompa magna. No, io non credo. Io penso che queste cose Berlusconi ora le fa di meno. Prima le cene eleganti, sì. Prima si magnava e poi si pompava. Ma ora penso che sia un po' diversa la cosa. No, quello che volevo dire è che la sua campagna elettorale è cominciata in pieno regime, a tutta manetta. No, io non credo. Se non gliele hanno messe fino ad ora, figuriamoci adesso. Lui è innocente. Che, come dice la legge, un uomo è innocente fino a quando riesce a imbuscarsi. E Berlusconi non lo becchi nemmeno se gli fa il terzo grado. Comunque penso che contro Berlusconi ci sia un accanimento dei giudici. Che ci hanno applicato il codice penale. Però parliamo delle promesse di Berlusconi. Tra le sue idee ci sarebbe anche il ministero della terza età. Io penso che quell'uomo è un genio. Proprio come Albert Weinstein. Come Leonardo da Grattevinci. O anche come l'inventore del bidet. Che ci ha dato l'occasione di avere una cosa bassa in bagno per poterci mettere il basilico. E col fatto che butta fuori acqua puoi fare addirittura il basilico idroponico. Anche perché per chi ha il pollice verde come me sa benissimo che il basilico fuori d'inverno congela. Veramente il bidet andrebbe usato in un'altra maniera. Ma parliamo del ministero della terza età che vuole fare Berlusconi. Ah, guarda. Io penso che era una cosa che era ora che c'era. In questo paese fino ad oggi si è pensato troppo al terzo mondo. E poco troppo poco alla terza età. E lo dico anche per te. Perché noi degli anni 80 forse un giorno diventeremo vecchi. Tu prima di me. Però una cosa è sicura. Negri non lo diventeremo mai. Quindi pensare ai vecchi è un dovere morale. Sti vecchiacci meritano rispetto. E se Berlusconi dovesse chiedere a Razzi di fare il ministro della terza età? Ebbene sì. Lui lo farà. Perché Razzi fa tutto quello che gli chiede Berlusconi. A parte determinate cose che è vestirsi con il tanga, col pizza, con le calze a rete e ballare nudo sul balcone. Perché si sa, quelle cose si fanno come passatempo. Se diventa un lavoro, poi non ti diverti più. Guarda, non voglio nemmeno pensarci a Razzi, che balla nudo sul balcone. Ma Razzi, cosa farebbe come ministro della terza età? Lui non vuole abbandonare i vecchi. Perché se il vecchio è contento, si agita. E una cosa bella del vecchio è che lui trema. Quindi lo puoi usare nei bar per agitare i cocktail. Tagliare le carote alla Giuliana. Oppure sparare pippe ai delfini. Guarda, cambiamo argomento. Quando Razzi è stato eletto con i voti all'estero, molti pensano che lui sia stato eletto con lo scandalo dei plichi. È saltata fuori una foto dove a una cena aziendale di Razzi c'è un pacco di plichi con dei voti già garantiti. Come lo spieghi questo? No, io non credo. Il pacco che c'era sul tavolo era di fazzoletti, che per gioco era decorato come le schede elettorali. Uguali uguali. E che per ricordo sopra c'è il nome di Antonio Razzi. Un po' come le pomponiere che stanno ai matrimoni. Si dice bomboniere, non pomponiere. Comunque lo scandalo dei plichi è stata una frode. Hanno preso soldi i postini e si è alterato il voto. Ascolta Sade, ma tu veramente pensavi che le elezioni erano pulite? Allora credi anche che i capelli di Berlusconi sono i suoi. Credi anche che Fazio fa le domande scomode. E che quando l'operaio della Conad fa la notte, la moglie resta a casa da sola? Sì ma Aga, Razzi ha detto di aver pagato in nero anche un suo collaboratore. In nero. Te lo dico da nero. Da nero per caso. Fatti un po' i cazzi tuoi. Pagare in cash ce lo salverà. Pagare in nero è la conquista della nostra civiltà. Per questo non fare mai una fattura. La vuoi sapere la verità? Razzi è stato eletto con i voti genuini. Perché la gente vuole al potere uno come loro. Se tu ti pagassero in nero sarebbe un'Italia migliore. Chirurghi, idraulici, dentisti. Il nero sfina. Sfina la depressione fiscale. E adesso fammi una domanda sulla pace mondiale così finiamo in bellezza l'intervista. Kim Jong-un nel 2017 aveva fatto un esperimento missilistico. La pace nel mondo ora è o non è in pericolo? Sì, questa volta credo di sì. Io quando avevo letto la notizia non ci avevo dormito. Eppure razzi. Difatti al senato stava con gli occhi spalancati. Sembrava quasi Max Pezzali. Era tutto bello sveglio. E quando mai li capita? Difatti, se mai dovesse essere, Razzi verrà chiamato per fare da pazzaere. Aspetta che mi è arrivato un messaggio. No, più caldo che magari non siano delle news su Razzi. E già, allora, tutto a posto. Ho buttato l'Ethernet in discarica. Ah no, vabbè, niente. È una cosa mia, mio cognato. Niente news su Razzi quindi. Però aspetta un attimo perché Razzi ha detto che pur di fargli far pace a Kim Jong-un e Donald Trump girerebbe un film porno con Rocco Sifredi. Ascolta Sade, è una cazzata. È una domanda che ha fatto un giornalista come te a Razzi. È un'idea del giornalista, non dei Razzi. Perché non hai capito come funziona. Li fanno dire a Razzi delle cose che fanno ridere. Così noi siamo contenti, almeno due risate ce le facciamo. Il filmato va su internet, la gente fa i click e la gente così si fa la grana. Ma non penso che Razzi faccia questo per far guadagnare soldi alla gente. Lui perché lo fa? Perché conviene anche a lui. Fa le magliette, vende i libri, lo chiamano alla radio. È malvivenza giornalistica. Quindi questo porno non lo faranno mai? No, ma tu chiedimelo comunque, adesso che ci ripenso. Che così facciamo come Razzi e magari ci facciamo anche noi la grana. Secondo te Razzi farebbe un porno con Sifredi per la pace nel mondo? Guarda, io ti ringrazio che mi chiedi questa cosa strana. Una domanda per me inaspettata. Se devo risponderti così su tre piedi... Due piedi. Anche il terzo, fidati. Faccio io il porno con Sifredi altro che Razzi. Io penso che per la pace ci vuole l'amore. L'amore di Rocco Sifredi. Che rappresenta l'amore dell'Abruzzo. Proprio come Razzi. Pensa che Razzi, quando ha fatto i 50 anni di matrimonio con sua moglie, gli ha regalato un bel cinghiale ancora vivo da uccidere e scuoiare e un bel cofanetto con tutti i film con Rocco Sifredi con i dialoghi tagliati. Io penso che Sifredi rappresenti l'amore. Sua moglie nel cofanetto troverà film d'autore come Shakespeare, Giulietta in Alfetta con Romeo, titoli da poeta appunto, perché Rocco è un poeta. È il poeta dell'amore. Più di 20 centimetri di poesia. A me i porno sono sempre piaciuti. Infatti con me ho sempre queste carte speciali che rappresentano queste donne. Chi sono? E che cazzo ne so. Sono fighe. E quindi le tengo sempre con me come Santini. Tienile te però da adesso. Sì, lo so. Sono un po' apiccicose. Ciao. Ciao.